Un camper per la salute. È arrivato ad Ancona, quello dell'Associazione Nazionale Tumori, più nota con l'acronimo ANT, allo scopo di fare visite gratuite per diagnosticare precocemente il melanoma. L'ambulatorio mobile ANT non è passato inosservato e le richieste sono state numerose. Oggi siamo ad Ancona per l'ultima tappa del giro, del tour della prevenzione, organizzato da Rilla Steel, brand del gruppo Ganassini, con cui Fondazione ANT ha organizzato 1800 visite di prevenzione, 70 giornate di tour. Un progetto molto importante che si va a sommare a un progetto altrettanto importante sostenuto da Rilla Steel attraverso Fondazione ANT perché siamo andati nelle scuole a insegnare ai ragazzi a fare prevenzione attraverso corretti stili di vita. Una progettualità importante che vede la lotta al tumore a 360 gradi, partendo dalla prevenzione, arrivando ad assistere i sofferenti fino all'ultimo giorno. La parola chiave è la stessa, prevenzione. Il melanoma è un tipo di cancro che conta ogni anno in Italia 7.000 nuovi casi e 1.500 decessi. Che fare per poterlo prevenire e agire tempestivamente? La prevenzione primaria consiste nell'evitare il più possibile l'esposizione incongrua ovviamente alla radiazione ultravioletta, sia naturale, quella solare, che quella artificiale, delle lampade solari e quindi proteggersi il più possibile, soprattutto nelle ore più critiche, quelle note tra le 11 e le 16 del pomeriggio, nel periodo estivo, con adeguato abbigliamento, con creme fotoprotettive e soprattutto evitare le scottature che sono quelle che maggiormente possono indurre mutazioni a livello del DNA della cellula meningitaria e quindi poi indurre secondariamente un tumore. Nella prevenzione secondaria invece prevediamo queste visite di controllo periodiche, dermatologiche, nelle quali cerchiamo quindi di, proprio ricerchiamo la cellula, diciamo la lesione melanocitaria alterata e oggi possiamo farlo grazie all'utilizzo della dermatoscopia, che molto ci ha aiutato in questi ultimi decenni, per ricercare quelle caratteristiche ultrascopiche che non potremmo vedere invece con la semplice osservazione ad occhio nudo e grazie appunto al dispositivo, al dermatoscopio e quindi cercare di distinguere la lesione benigna da quelle lesioni, diciamo, potenzialmente maligne o già maligne in atto, quindi già in stato tumorale. Com'è l'affluenza? Buona, molto buona. L'organizzazione direi che è eccellente da questo punto di vista perché appunto le prenotazioni vengono fatte con largo anticipo e quindi abbiamo una rispondenza, non solo una puntualità, diciamo, in questo tipo di visita ma è veramente un'accoglienza molto molto alta, molto elevata.